Appuntamento con la Befana e anche a Rione Parco, infatti ci troviamo presso la chiesa della Madonna delle Salette entriamo per scoprire il fantastico mondo della Befana e vediamo subito tanti bei regali, le sorprese non sono finite Noi cerchiamo sempre di dare una gioia soprattutto ai bambini di questo rione perché Don Emilio ci tiene molto e lo stesso con l'associazione Mariana Irpina e da pochi anni collaboriamo anche noi come associazione, da tre anni perché mia madre collaborava qui a fare le calze e noi abbiamo creato, visto che è scomparsa tre anni fa, abbiamo creato un'associazione proprio per ricordarla soprattutto in queste occasioni Diamo anche il nome di tua madre Mia madre è Gemma e non a caso l'associazione si chiama I Fiori di Gemma perché amavo i fiori e abbiamo coniugato il piacere dei fiori con il suo nome È un lavoro che si fa tra virgolette di un anno mettiamo insieme, raccogliamo un po' giocattoli, peluche proprio per arrivare il giorno della Befana per dare un po' un sorriso a questi ragazzi, a questi bambini che aspettano con ansia questa giornata Questo è un lavoro che ci impiega un po' di volontari noi siamo nella parrocchia della Madonna della Salette ormai sono 18 anni che facciamo questa manifestazione che è bella perché siamo per i bambini e allora ogni anno organizziamo questo evento si è aggiunto anche I Fiori di Gemma, un'associazione per i bambini e cerchiamo di dare un po' di gioia in questo momento triste che stiamo vivendo e in questo momento che attraversiamo di difficoltà Io collaboro nel fare la Befana i bambini si spaventano però è una cosa gioiosa è un'associazione per i bambini